Musica 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 Carlo Corriere, cosa ti pensi di questa prima ferrata? Come prima ferrata sono più che soddisfatto, grazie all'albero avevi dato quella spinta ampio iniziale perché ero un po' così bloccato e dopo mi sono sciolto e sono riuscito ad arrivare in cima e sono veramente un algo duro e indescrivibile. E poi siamo ora Pierino Tolaini, grande esperto di torrentismo, cosa mi pensi di questa ascesa a secco? Non vengo più! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.